26. Baroni, parere contrario. Ci sono interventi? No. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Allora, mi pare che abbiano votato tutti. No. Tartaglione. Tartaglione sta votando, ha votato. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 77 favorevoli, 273 contrari. La Camera respinge. 6.27 di vita. Pareri contrari di Commissione e Governo. Colonnesi. Voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Di vita. Sì, Presidente, siamo arrivati all'articolo che per noi è il più critico di tutta la proposta di legge. È quello che praticamente ci ha spinto a non appoggiare più il testo unificato. Ma non perché siamo contro l'istituzione del Trust, ma perché, come dicevo in discussione generale, ci siamo ritrovati noi, commissari della Commissione Affari Sociali, a legiferare su un istituto senza avere assolutamente le competenze per farlo. Perché questa è competenza della Commissione Giustizia o Commissione Finanze. E quindi ci siamo ritrovati a leggere un articolo e dover capire di che cosa stiamo parlando. Perché il Trust, ancora non esiste una normativa in Italia che dà pieno riconoscimento al Trust, però, allo stesso tempo, è parzialmente riconosciuta tramite la Convenzione dell'AIA. Ora, in quanto commissari della Commissione Affari Sociali, l'abbiamo voluto scrivere, ovviamente in funzione dell'assistenza alla persona disabile. Quindi non è l'istituzione di qualsiasi tipo di...